Senza Luzio non partiamo. No. Eh? Manca Luzio. Mike, sei pronto? Per forza. Ah. Come vince il triplete. Felici. Abbiamo vinto così il triplete. Noi lo possiamo dire. Così abbiamo vinto. Mesco, abbiamo vinto il triplete. Così. Bravo. Così abbiamo vinto. Così. Così vinciamo anche noi. Pander. Goran, come abbiamo vinto il triplete. Goran, ma la prima volta che sei arrivato da noi a gennaio, hai pensato che potessimo vincere tutto? Era impossibile. Quello che ho visto il primo mese mi sono spaventato. Tiago cosa mangiava? Carbonara. Carbonara prima della partita non ho mai vinto. E tu cosa mangiavi, ragazzi? La brigiaula e rucola. E st patriотри. e un certo ruore. Credala.